Costruire sul costruito è zero abbattimenti, Biancani difende la strategia dei parcheggi multipiano. Auditorium Scavolini, Apo Hotels reclama regia per programmare turismo congressuale. Dall'ospedale di Muraglia, quello di Caglia, avanzano i cantieri dell'edilizia sanitaria. Pesero celebra la giornata in memoria dei caduti nelle missioni di pace. A Fano due domeniche all'insegna di sapori e aromi d'autunno. Buonasera a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News. Nel giornale del Canal 80 che questa sera, martedì 12 novembre, apriamo occupandoci di un argomento che ha suscitato un certo dibattito nella città di Pesero dopo l'annuncio della politica del Comune per quanto riguarda l'intenzione di realizzare parcheggi multipiano ai margini del centro storico e presumibilmente nell'area di Piazzale Carducci e di fronte alla Caserma del Monte. Una politica che i biancani difende in quanto meno impattante sul consumo di suolo e sull'abbattimento di alberi. Ho sempre detto che avrei amministrato la mia giunta ascoltando quelle che sono anche i consigli e suggerimenti che le persone ci possono dare. In questo caso però dal mio punto di vista non sono motivato, almeno in parte ovviamente, perché abbiamo detto sin da subito che non voglio fare parcheggi in aree dove bisogna tagliare gli alberi perché ritengo che gli alberi siano importanti per la vita di tutti noi, anzi in questi cinque anni vedrete che aumenteranno il numero degli alberi che andremo a piantare ovviamente anche nelle zone urbane della città. Dall'altra parte fare parcheggi interrati oltre ad essere troppo costosi e ricordo sempre che quando l'amministrazione fa un investimento chi paga sono i cittadini, quindi dal mio punto di vista sto cercando di evitare di fare parcheggi interrati, primo perché costano molto, secondo in qualsiasi zona lo facciamo in qualche modo gli alberi bisogna rimuoverli, terzo perché Pesero è una città dove appena scavi viene fuori un resto archeologico importante e quindi pensare di fare parcheggi interrati è praticamente sbagliato. Io ritengo che dobbiamo fare o ampliamenti delle aree a raso oppure bisogna fare dei parcheggi super elevati. Vengono fatti in tutto il mondo, non capisco perché a Pesero non si possono fare parcheggi sopra elevati, molto spesso i parcheggi non per forza sono strutture pubbliche, brutte, ma anche che possono invece riqualificare i territori dove vengono inseriti, ma ho posto un problema, noi pensiamo sempre ai parcheggi come un'occasione per le persone che devono venire a lavorare nella zona centrale o che vengono a fare gli acquisti nella zona centrale. Sicuramente servono sia per chi viene a fare acquisti, sia per chi viene a lavorare, ma ricordo che i parcheggi servono anche per chi vive nella zona del centro. Oggi tutte le vie del centro sono affogate dalle auto, le auto sono diventate tantissime perché negli ultimi 20 anni si sono fatti tutti gli interventi di ristrutturazione che hanno previsto l'aumento degli appartamenti. Con l'aumento degli appartamenti quasi nessuno ha dato i posti auto perché se no non avremmo potuto realizzare tutti questi, come dire, riqualificare gli immobili e quindi i posti auto privati non sono stati realizzati. Nessun privato fa un investimento per realizzare dei posti auto, lo può fare solamente il pubblico perché ovviamente rientra dell'investimento in 30-40 anni ed è per questo ritengo che sia giunta l'ora di fare anche dei parcheggi di struttura per liberare il nostro centro storico anche dalle troppe auto che ci sono tutti i giorni. L'auditorium Scavolini ha bisogno di una regia manageriale capace di programmare a lungo termine quanto reclama l'associazione degli albergatori pesaresi APA Hotels che punta a fare dell'impianto un polo per il turismo congressuale. L'auditorium Scavolini può essere un valore aggiunto per il turismo di Pesero ma ha bisogno di gestione manageriale e capacità di programmazione. Requisiti che reclama l'APA Hotels attraverso il suo presidente Marco Filippetti di fronte ad un dibattito sull'accoglienza di un turismo sportivo che secondo il presidente degli albergatori non può essere il core business della struttura che invece deve guardare soprattutto al mercato convegnistico e congressuale. Secondo Filippetti lo sport porta presenze con ridotta capacità di spesa a differenza del settore business e medicale che crea un indotto di cui beneficia l'intera città e non solo il comparto alberghiero. Lo stesso Filippetti enfatizza però il fatto che arrivati a metà novembre ancora non si sa chi gestirà la struttura nel 2025 in quanto Aspes ad oggi risulta come un semplice consulente. Una situazione che sta creando ritardo nella programmazione. A Potels chiede dunque una gestione manageriale dell'auditorium Scavolini che scelga su quale fette di mercato puntare programmando le attività anno per anno e non mese per mese. Registra un altro passo avanti la partenza delle cantiere per il nuovo ospedale da realizzare a Pesaro un ospedale da 390 posti letto sull'attuale sito di Muraglia. La regione marca ha infatti ricevuto il progetto per la demolizione dell'attuale nosocomio che di fatto preserverà la sola palazzina Solazzi costruendo poi il nuovo complesso da 200 milioni di euro. Si attendono i pareri dell'ANAC per avviare la gara per la demolizione e la partenza di un cantiere che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2025. Aspettando il via delle cantiere a Muraglia entra invece nel vivo quello riguardante il nuovo ospedale di Cagli. Prende forma il cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale di Cagli nel progetto di potenziamento di una sanità di prossimità voluta dalla riforma sanitaria regionale. Ieri l'assessore con delega all'edilizia ospedaliera Francesco Baldelli ha effettuato un sopralluogo alla partenza degli scavi di fondazione per la realizzazione del piano zero di un progetto complessivo da 15 milioni di euro. Gestire in questa parte del territorio un servizio sanitario significa agevolare anche i servizi sanitari che vengono erogati da altre strutture ospedaliere come quella del capoluogo di Pesaro o come quella di Fano evitando quegli imbuti che stiamo vivendo quotidianamente nella nostra sanità regionale dovuta alla chiusura di tutti i presidi sul territorio. Noi stiamo restituendo servizi al territorio, Cagli niede alla ricostrazione con questo cantiere. L'ospedale sorgerà in un nascente parco urbano attraverso una struttura da 40 posti letto ai quali si aggiungono una molteplicità di ambulatori dai medici di medicina generale ai pediatri fino alle funzioni specialistiche dalla radiologia fino al CUP e agli spazi per la POTES. Una struttura particolarmente moderna che non solo sarà efficiente da un punto di vista energetico ossia produrrà quell'energia di cui ha bisogno l'edificio per funzionare ma in una zona sismica come è un po' tutto il nostro appennino questa struttura non solo sarà antisismica ma sarà in grado di continuare ad operare anche durante un evento sismico anche di notevoli dimensioni. E restando in tema di investimenti regionali nelle pesarese il consigliere Nicola Baiocchi annuncia lo stanziamento di 2.761.000 euro per 5 progetti di riqualificazione urbana che premeno altrettanti comuni pesaresi. Circa 600.000 euro destinati a progetto che andranno al restauro conservativo del Teatro Zuccari di Sant'Angelo in Vado alla rifunzionalizzazione del Museo dei Bronzi Dorati di Pergola alla demolizione e ricostruzione del mercato coperto del tartufo ad Acqualagna e alla riqualificazione di piazza San Cristoforo a Urbagna. Circa 300.000 euro saranno invece destinati all'Eco Museo del Pane e delle Macine di Cantiano. Il 12 novembre di 21 anni fa l'attentato di Nasseria in Iraq una data, quella del 12 novembre, che è diventata quella che contrassegna la giornata in memoria di tutti i caduti militari e civili nelle operazioni internazionali di pace. Una ricorrenza che Pesaro ha onorato questa mattina con una cerimonia presso la stela dedicata in via Belgrado. Questa giornata è dedicata non solo ai caduti in Nasseria ma a tutti i caduti in operazioni. Le occasioni di commemorazione non devono essere fini a se stesse ma devono ricordarci che il sacrificio è essere la nostra stella popolare e il nostro agire quotidiano perché il sacrificio di militari, uomini e donne che hanno operato nel passato in guerre ma anche in operazioni di pace come quella a Puntinirac nel 2003 sono per noi un esempio per muovere, migliorarci e essere ancora più efficaci nelle nostre attività militari. Parliamo di uomini e donne che hanno dato la propria vita per l'Italia ma soprattutto per portare la pace in questo caso in Iraq. Sono passati praticamente 21 anni da quel giorno dove sono morti 12 carabinieri, 5 persone del nostro esercito ma anche altri civili iracheni ma non solo. è un momento appunto che va ricordato anche perché in questi anni purtroppo i teatri di guerra, le zone di guerra sono aumentate tutt'oggi abbiamo molte zone di guerra ancora a parti del mondo dove ci sono circa a livello mondiale circa 50 conflitti aperti i nostri soldati del 28esimo reggimento sono in questo momento in Libano e quindi un'occasione per ricordare anche nel rispetto di quelle che sono le famiglie. Continuano le interruzioni di erogazione dell'acqua in relazione ai lavori di ammodernamento della rete idrica portata avanti in provincia di Pesaro Urbino da Marche Multiservizi che comunica come giovedì 14 novembre l'erogazione potrebbe essere sospesa nei comuni di Gradara e di Urbagna fra le ore 8 e le ore 17 nelle vie e strade che vi stiamo mostrando in questa grafica. Fra i numeri in crescita del turismo a Pesaro in questo 2024 c'è anche quello delle crociere. Nel 2024 infatti i passeggeri transitati nel porto di Pesaro sono stati 539 con 15 tappe delle nave Artemis e Atena della compagnia Grand Circle Cruise Line che hanno raggiunto lo scalo da marzo ai primi di novembre con 7 attracchi in più rispetto allo scorso anno. Un dato in crescita del 52% dunque per quanto riguarda i croceristi nello scalo pesarese. La società pesarese Renco S.P.A. in collaborazione con società del gruppo Avizu ha costituito una nuova società ovvero l'Opificio Idrogeno Marche per realizzare un impianto di produzione di energie rinnovabili a Falconara nell'area dell'ex stabilimento Montedison. Il progetto del valore di 70 milioni di euro prevede un primo stralcio dedicato alla realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde del valore di 40 milioni di euro assistito da un contributo di 16 milioni di euro di fondi PNRR. Un impianto che dovrà essere completato entro il 30 giugno 2026. La seconda fase del progetto prevede invece la realizzazione di 30 MW di agrivoltaico finalizzato all'emissione di energia nella rete. E domani, mercoledì 13 di novembre, ricorre la giornata mondiale della gentilezza. L'associazione pesarese Persona Gentile celebra questa ricorrenza domani alle 18 all'Alexander Museum Palace Hotel nell'incontro con la scenografa Sally Galotti in una conversazione sul tema umanizzazione gentile alla ricerca della qualità affettiva negli ambienti sanitari. Ed ora ci occupiamo di una delle più longeve manifestazioni che celebrano le eccellenze agroalimentari del nostro territorio in questa stagione. Parliamo di sapori e aromi d'autunno pronta alla sua 36esima edizione al Codma di Fano. Nelle domeniche delle 17 e 24 novembre il Codma di Fano apre il salotto del gusto di sapori e aromi d'autunno. Un appuntamento fisso da 36 anni con la mostra mercato che esalta i sapore autunnali del territorio mettendo in vetrina le sue eccellenze agroalimentari assieme ad un ricco programma di eventi collaterali e riconoscimenti. Tutto quello che saranno le degustazioni, la camminata del cuore, la prima domenica con il pomeriggio tutte le iniziative nel salotto del gusto che prevedono assaggi, degustazioni, presentazioni di programmi compreso la presentazione del Baccala Fest l'iniziativa che sarà l'appendice di sapori aromi d'autunno e proseguirà fino a marzo prossimo con il coinvolgimento di ristoranti e gare gastronomiche del territorio. Un'esaltazione sensoriale che va oltre il gusto tant'è che quest'anno la Rassegna ha creato anche un suo originale logo olfattivo. Abbiamo iniziato il nostro slogan quest'anno dai profumi alla provetta abbiamo inventato, grazie a degli amici di Fano dell'azienda di Fano, 5 Natura un logo olfattivo che metteremo a disposizione di chi vorrà avere durante la manifestazione non è altro che un profumo nato dall'insieme di profumi che ricordano i sapori agli aromi dell'autunno. Oltre all'organizzazione di viandanti dei sapori e olia il festival si avvale anche del sostegno di Confcommercio. Il sapori aromi d'autunno che giunge alla 36esima edizione è la manifestazione del settore più importante e più longeva a livello regionale e quindi Confcommercio che già l'anno scorso aveva dato il proprio supporto all'organizzazione quest'anno ha incrementato la propria presenza sia perché da sempre ci occupiamo di promozione territoriale oltre che turistica con l'itinerario della bellezza ma perché la valorizzazione dei prodotti del territorio la valorizzazione dei prodotti enogastronomici legati anche al mondo della ristorazione fa parte del nostro core business del nostro DNA. In un periodo sicuramente anche pre-natalizio è importante valorizzare le eccellenze i prodotti che escono dalla nostra terra i sapori aromi d'autunno è sicuramente una manifestazione che porta persone nella nostra città al COD ma mi auguro anche nel centro cittadino quindi anche nelle altre attività economiche quindi è una mostra da tutelare da mantenere e da implementare quello che stiamo facendo e faremo anche nei prossimi anni. Ed ora ci occupiamo del territorio di Isola delle Piano un comune entrato perfettamente in sintonia con l'anno di Pesaro Capitale della Cultura proponendo un'offerta andata ben oltre la settimana capitale dedicata ad ognuno dei 50 comuni del territorio. Noi abbiamo dedicato il 2024 alla donna rurale abbiamo iniziato l'8 marzo e concluderemo adesso verso la fine di novembre con un incontro con Margherita Asta con cui sono in contatto che verrà a parlare della resistenza delle donne rurali nella lotta contro la mafia le donne rurali del sud e abbiamo avuto parecchi eventi, parecchi incontri e ci hanno creato un'idea nell'incontro che abbiamo fatto e una progettualità per continuare a farlo nei prossimi anni quattro, tre, quattro eventi magari stagionali che mettono sempre al centro il territorio e la figura della donna che ritorna a vivere delle giovani che ritornano a vivere magari anche nei piccoli paesi e sviluppano anche attività che hanno ben poco a che fare con l'agricoltura ma il fatto di aver scelto di essere venute a vivere in un piccolo paese dell'entroterra fa di loro delle rappresentanti delle giovani donne rurali e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport ricordandovi che fra poco alle 20 torna in campo l'Ital Service Pesaro di Calcio A5 in trasferta a Viterbo per provare a scuotersi dalle quattro sconfitte su quattro partite che hanno caratterizzato questo avvio di massima serie di Calcio A5 domani invece alle 20.45 nuovo turno infrasettimanale per la Serie A2 di basket con la Carpegna Prosciutto Pesaro che alle 20.45 sarà di scena Livorno per provare a ritrovare il successo dopo gli stop con Udine e Rimini si conclude qui questa nostra edizione del nostro telegiornale Rossini News vi ricordiamo però anche gli appuntamenti di questo martedì sera sul canale 80 subito dopo il TG tornano le pillole di bellezza appuntamento alle 20 con questa rubrica questa sera dedicata come prevenire e migliorare gli inestetismi delle età e poi ancora alle 21 spazio alla musica la musica attorno Xanitalia per il territorio approfondimenti sulle attività dell'Orchestra Sinfonica Rossini con il suo direttore artistico Paolo Rosetti ospite di questa sera assieme all'ufficio stampa della stessa OSR Fabiola Santi e poi ancora alle 21.20 nuova puntata di cultura territorio e impresa decima puntata che si focalizza sulle figure imprenditoriali di Paolo Lucarelli della Baciocca SRL e di Vincenzo Paoletti di Digital Smart SRL altre attività quelle della pasta fresca questa sera idee sotto l'albero alle 21.40 con le proposte di pasta fresca e piada di Gianluca Melchiorri e poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Rossini TV che torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini rassegna stampa che sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi si chiude invece qui l'informazione serale di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi